Tribunale di Massa Carrara, Concordato Preventivo, 6 fratto 2014, 1 Compendio aziendale ad uso uffici comprendente, intera porzione del fabbricato lato La Spezia, la rimanente è di proprietà del Comune di Carrara, sviluppata su quattro piani e effetti oltre interrato, sub 2, superficie catastale metri quadri 703, porzione al piano primo del fabbricato lato Viareggio, sub 5, superficie nord a metri quadri 122 circa, porzione al piano secondo del fabbricato lato Viareggio, sub 5, superficie nord a metri quadri 122 circa, Viareggio, sub 6, superficie nord a metri quadri 215 circa, immobili liberi da persone Sito in, località Avenza, via Giovanni Pietro Carrara, Massa Carrara Prezzo base, 810.000 euro Vendita senza incanto, 18 marzo 2019, ore, 9.30 Vendita con incanto, 7 marzo 2019, ore, 12.06 Luogo della vendita, Tribunale di Nus, Piazza Alcide de Gasperi 1, Sala Audienze Civili, Piamo 1, Palazzo di Giustizia Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Tribunale di Massa Carrara, concordato preventivo, 6 fratto 2014, 3 Fabbricato rurale costituito da due corpi connessi tra loro sviluppati su due livelli FT, porticato e terrazza di copertura Terreni circostanti di diversa natura e consistenza Immobili liberi da persone Sito in, località Navoleto Pontremoli, Massa Carrara Prezzo base, 105.188 euro Vendita senza incanto, 18 marzo 2019, ore, 9.30 Vendita con incanto, 7 marzo 2019, ore, 12.07 Luogo della vendita, Tribunale di Massa, Piazza Alcide de Gasperi 1, Sala Audienze Civili, Piamo 1, Palazzo di Giustizia Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Tribunale di Massa Carrara, concordato preventivo, 6 fratto 2014, 2 Proprietà superficiale di fabbricato su un unico piano FT in parte ad uso uffici, sub 3, KETA barra 10, ed in parte ad uso commerciale con area ristoro, sub 4, KETC barra 1, superficie lorda metri quadri 179 circa con porticato di metri quadri 148 lordi Libero da persone Sito in, Piazza Pietro Nenni, Piazza Antoni Gramsci a Ulla, Massa Carrara Prezzo base, 204.188 euro Vendita senza incanto, 18 marzo 2019, ore, 9.30 Vendita con incanto, 7 marzo 2019, ore, 12.07 Luogo della vendita, Tribunale di Massa, Piazza Alcide de Gasperi 1, Sala Audienze Civili, Piano 1, Palazzo di Giustizia Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Tribunale di Massa Carrara, procedure concorsuali, 39 frat 2000, 1 Appezzamento di terreno di forma irregolare, estensione complessiva metri quadri 39.034 Catastali, con sovrastante fabbricato rurale in cattivo stato di manutenzione Sito in, località Dozzano Pontremoli, Massa Carrara Prezzo base, 57.769 euro Vendita senza incanto, 15 marzo 2019, ore, 10.30 Vendita con incanto, 7 marzo 2019, ore, 12.53 Luogo della vendita, studio del notaio delegato, in Massa, NS, via Vincenzo Giudice e già via Crispi Unici Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Tribunale di Massa Carrara, procedure concorsuali, 39 frat 2000, 2 Appezzamento di terreno di forma irregolare, estensione complessiva metri quadri 28.963 Catastali Sito in, località Dozzano Pontremoli, Massa Carrara Prezzo base, 47.289 euro Vendita senza incanto, 15 marzo 2019, ore, 10.30 Vendita con incanto, 7 marzo 2019, ore, 12.54 Luogo della vendita, studio del notaio delegato, in Massa, NS, via Vincenzo Giudice e già via Crispi Unici Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Tribunale di Massa Carrara, esecuzioni immobiliari, 25 frat 2015, unico Diritti della piena proprietà con tutti diritti e pertinenze, servitù attive e passive su unità immobiliare con ingresso indipendente di tre piani FTDK 240 metri quadri, con due corti pertinenziale esclusive Occupato con titolo non opponibile alla procedura Vano Garage barra Cantina e ripostiglio al piano terra Sito in, via Sant'Andrea Podenzana, Massa Carrara Prezzo base, 54.349 euro e 32 centesimi Vendita senza incanto, 15 marzo 2019, ore, 12.30 Vendita con incanto, 7 marzo 2019, ore, 12.06 Luogo della vendita, Tribunale di Massa, tramite la piattaforma www.garavirtuale.it Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Dottor Simone Torre, email, dot.simonetorrechiocciolagmail.com, telefono, 058543273 Tribunale di Massa Carrara, esecuzioni immobiliari, 255 fratto 2012, unico Fabbricato residenziale su due piani FT, Bani 21, con annesso ampio giardino di pertinenza Libero Sito in, via Stadano a Ulla, Massa Carrara Prezzo base, 64.546 euro e 87 centesimi Vendita senza incanto, 22 marzo 2019, ore, 9.30 Vendita con incanto, 7 marzo 2019, ore, 12.09 Luogo della vendita, Tribunale di Massa, tramite la piattaforma www.garavirtuale.it Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Avvocato Roberta Catapiani, email, roberta.catapiani-libero.it, telefono, 05858 11547 Tribunale di Massa Carrara, concordato preventivo, 18 fratto 2013, unico A compendio industriale costituito da fabbricati diversi fra loro costruiti da Palazzina Principale Uffici, Blocco Uffici Secondario, fabbricato che alloggia la centrale termica Capannone industriale con tettoia annesse, magazzino coperto con tettoia, piazzale di stoccaggio dei materiali lapidei e di manovra, area verde privato e viabilità di accesso Libero Di mobili residui che comprendono, 1. mobili ed attrezzature da ufficio, 2. materiale lapideo, in lastre o blocchi Sito in, località Codupina, via Aurelia Ovest Massa, Massa Carrara Prezzo base, 2 milioni e 70 mila euro Vendita senza incanto, 18 marzo 2019, ore, 10 e 30 Vendita con incanto, 7 marzo 2019, ore, 12 e 8 Luogo della vendita, Tribunale di Massa, piazza Alcide de Gasperi 1, sala udienze civili, piano 1, palazzo di giustizia Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Tribunale di Massa Carrara, esecuzioni immobiliari, 32 fratto 2016, unico Più unità immobiliari ad uso speciale commerciale, ex discoteca, facenti parte di un fabbricato condominiale, su Metri quadri 690,37 Libero Sito in, piazza Mazzini Aulla, Massa Carrara Prezzo base, 63 mila 95 euro Vendita senza incanto, 15 marzo 2019, ore, 11 e 30 Vendita con incanto, 7 marzo 2019, ore, 12 e 8 Luogo della vendita, Tribunale di Massa, tramite la piattaforma www.garavirtuale.it Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Dottor Roberto Serafini, e-mail, serroschiocciolatiscoli.it, telefono, 0584361559 Tribunale di Massa Carrara, esecuzioni immobiliari, 123 fratto 2015, unico Appartamento in complesso quadrifamiliare con tipologia villetta a schiera composto da piano Terra, primo e semi interrato Superficie lorda Appartamento metri quadri 80 circa, balconi metri quadri 33 circa, cantina metri quadri 40 circa, corti metri quadri 74 circa In corso di liberazione, ordinanza del 22 novembre 2018 Sito in, via Marchini Montignoso, Massa Carrara Prezzo base, 214 mila 801 euro Vendita senza incanto, 15 marzo 2019, ore, 9 e 30 Vendita con incanto, 7 marzo 2019, ore, 12 e 44 Luogo della vendita, Tribunale di Massa, tramite la piattaforma www.garavirtuale.it Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Avvocato Roberto Pagliuca, e-mail, av.robertopagliuca-studiolegalemossi.it, telefono, 058541323 Tribunale di Massa Carrara, esecuzioni immobiliari, 86 fratto 2017, unico Fabbricato di civile abitazioni disposto su tre livelli con relativa corte di metri quadri 8 circa Stato di manutenzione scarso, libero Sito in, via Malacosta a Ulla, Massa Carrara Prezzo base, 60 mila euro Vendita senza incanto, 15 marzo 2019, ore, 9 e 30 Vendita con incanto, 7 marzo 2019, ore, 12 e 45 Luogo della vendita, Tribunale di Massa, tramite la piattaforma www.garavirtuale.it Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Dottor Paolo del Fiandra, e-mail, dot.paolodelfiandra.gmail.com, telefono, 058543273 Tribunale di Massa Carrara, esecuzioni immobiliari, 60 fratto 2015, 1 Fondo commerciale in corso di costruzione di metri quadri 800 lordi ubicato al piano semi interrato di un edificio condominiale, ancora al grezzo, in pessimo stato di manutenzione Libero Sito in, viale della resistenza a Ulla, Massa Carrara Prezzo base, 59 mila 290 euro Vendita senza incanto, 15 marzo 2019, ore, 9 e 30 Vendita con incanto, 7 marzo 2019, ore, 12 e 46 Luogo della vendita, Tribunale di Massa, tramite la piattaforma www.garavirtuale.it Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Dottor Paolo del Fiandra, email, dot.paolodelfiandra.gmail.com, telefono, 058543273 Tribunale di Massa Carrara, esecuzioni immobiliari, 193 fratto 2014, unico Immobili ad uso commerciale al piano primo di un edificio a due piani FT, metri quadri 580 circa, composto da grande locale di metri quadri 400 circa adibito a servizio di ristoro e altri locali a servizio dell'attività oltre corte di pertinenza esclusiva di metri quadri 2550 circa, libero Sito in, località Albiano Magra, via della Repubblica Aulla, Massa Carrara Prezzo base, 195.525 euro Vendita senza incanto, 15 marzo 2019, ore, 11 e 30 Vendita con incanto, 7 marzo 2019, ore, 12 e 47 Luogo della vendita, Tribunale di Massa, tramite la piattaforma www.garavirtuale.it Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Dottoressa Laura Sorrentino, email, info chiocciola laurasorrentino.191.it, telefono, 0585810484 Tribunale di Massa Carrara, causa divisionale, 806 fratto 2016, unico Abitazione al piano primo di un fabbricato costruito nei primi del 1900, composto da tinello, cucina, soggiorno disimpegno, due camere, ripostiglio e bagno Superficie lorda metri quadri 100 oltre due corti pertinenziali scoperte di metri quadri 70 Occupato da coniugge superstite con diritto di abitazione Sito in, via Alberica Massa, Massa Carrara Prezzo base, 95.420 euro Vendita senza incanto, 18 marzo 2019, ore, 10.30 Vendita con incanto, 7 marzo 2019, ore, 12.49 Luogo della vendita, Tribunale di Massa, tramite la piattaforma www.garabirtuale.it Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Tribunale di Massa Carrara, esecuzioni immobiliari, 60 fratto 2015, 2 Fondo commerciale in corso di costruzione di metri quadri 800 lordi ubicato al piano seminterrato di un edificio condominiale, confinante con fondo di cui all'8.1, sub 38, ancora al grezzo, in pessimo stato di manutenzione Libero Sito in, viale della resistenza Olla, Massa Carrara Prezzo base, 81.954 euro e 67 centesimi Vendita senza incanto, 15 marzo 2019, ore, 9.30 Vendita con incanto, 7 marzo 2019, ore, 12.47 Luogo della vendita, Tribunale di Massa, tramite la piattaforma www.garabirtuale.it Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Dottor Paolo del Fiandra, email, dot.paolodelfiandra.gmail.com, telefono, 058543273 Tribunale di Massa Carrara, Esecuzioni Immobiliari, 21 fratto 2017, unico Fabbricato costruito per esigenze industriali Il capannone fa parte di un complesso immobiliare di maggiori dimensioni ad uso commerciale e industriale Trattasi di capannone terra-tetto con piccola corte esclusiva Occupato dall'esecutato in corso di liberazione Sito in, via Campodappio Carrara, Massa Carrara Prezzo base, 450.000 euro Vendita senza incanto, 15 marzo 2019, ore, 11.30 Vendita con incanto, 7 marzo 2019, ore, 12.52 Luogo della vendita, Tribunale di Massa, tramite la piattaforma www.garavirtuale.it Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Laura Sorrentino, email, info.laurasorrentino.191.it Telefono, 0585810484 Tribunale di Massa Carrara, causa divisionale, 857 fratto 2014, unico Fabbricato ad uso civile e abitazione disposto su di un unico piano FT con annessa cantina oltre garage della consistenza di metri quadri 23 Entrambi posti all'interno della corte circostante il fabbricato Occupato da comproprietario Sito in, località a Bondano, via Bondano Massa, Massa Carrara Prezzo base, 470.000 euro Vendita senza incanto, 22 marzo 2019, ore, 9.30 Vendita con incanto, 7 marzo 2019, ore, 12.52 Luogo della vendita, tribunale di massa, tramite la piattaforma www.garavirtuale.it Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Avvocato Benedetta Chiappale, email, benedettachiappale chiocciola virgilio.it, telefono, 0585 787 190 Tribunale di massa Carrara, esecuzioni immobiliari, 154 fratto 2017, unico Porzione al piano terra di capannone ad uso commerciale artigianale composto da ampio vano centrale e altro vano Retrostante adibito temporaneamente a deposito magazzino con annessa area pertinenziale Consistenza metri quadri 324, superficie catastale metri quadri 360 Libero e in stato di abbandono, porzione uso magazzino in corso di liberazione Sito in, località Bibola, via Piano di Bibola A1, Massa Carrara Prezzo base, 65.718,75 euro Vendita senza incanto, 22 marzo 2019, ore, 9.30 Vendita con incanto, 7 marzo 2019, ore, 12.51 Luogo della vendita, Tribunale di massa, tramite la piattaforma www.garavirtuale.it Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Avvocato Benedetta Chiappale, email, benedettachiappale chiocciola virgilio.it Telefono, 0 5 8 5 7 8 7 1 9 0